Allora, parla, confidati! Allora, piacere, mi chiamo Christian Pinotti e sono un coglione! Oh, lo facciamo già bene, quindi... Ecco, e poi niente, volevo fare un bel film da mandare al nostro amico Davide che ultimamente non può uscire la sera per motivi importanti e niente, questo è Giorgio, un grande esperto di lavoro, di teorie legate al mondo del lavoro e al mondo delle aziende, dell'economia in Italia. Volevamo inaugurare questa sera un ciclo di conferenze che il signor Giorgio terrà al bar Le Caravelle, nel quartiere di Arenelle, di Lavagna e come tema si sarà... Il fallimento? Il fallimento nella società contemporanea post-crisi. Quindi invia invia a Davide e facciamo un appello a tutti i detentori di aziende in Italia che abbiamo un capitano d'azienda senza azienda che è il signor Giorgio Mascolo. Qualora qualche miliardario si fosse stufato dal proprio... E vuole suicidarsi, mi do una mano! Suicidare magari con tanti debiti volesse volesse cedere azienda con debiti a signor Mascolo. Signor Mascolo è disponibile pur di rivestire il ruolo... un ruolo idoneo alla sua... Dormire! Dormire! A Sant'Anni! Un saluto! Davide, pensaci tu, monta un buon video da mandare su YouTube. Grazie, ciao! Dovevi andare a lavorà!